Nessuno mai chiamerà più di noi numero 16 Grazie, Capitano! E' stata un'emozione che ci ha rubato l'anima ed è durata 18 anni, indimenticabile, simbolo, Capitano, adesso bandiera, numero 16 Daniele! Applauso! Applauso! Adicodizione! Numero 1, Molsen, numero 63, scusato! Numero 2, Kasdor, numero 4, Chris! Numero 21, alde día a più! Sardeggi! Il numero di sette, Pasquale, numero 8, Perotti, numero 9, Riccetto. La data di evoluzione è che è un parco d'anima, che è fatta di Zampone, il titolo, il capitano, adesso non mantiene, numero 13! Il numero di sette, Pasquale, numero 9, Riccetto.